Una città per tutti, una città più sostenibile e giusta, una città più sana e sicura, una città che studia, più viva e forte. Sono i punti principali del programma della lista civica marostica per tutti Santini Sindaco. 16 candidati, 10 uomini e 6 donne a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgio Santini. Noi siamo molto orgogliosi di tante cose di questa lista, per esempio il fatto che ci sono uomini e ci sono donne, c'è un altissimo tasso di istruzione, sia tra laurea e diploma, c'è la presenza di tutti i territori, in particolare c'è un candidato per ogni frazione. Un gruppo che punta a favorire la partecipazione attiva dei cittadini con l'istituzione, ad esempio, del Consiglio delle Frazioni, ma che guarda anche allo sviluppo sostenibile e alla difesa del patrimonio pubblico, a partire dall'area del vecchio ospedale. Abbiamo corretto l'errore che riguardava la possibile vendita dell'ospedale, che per pochissimo tempo siamo riusciti ad evitare. Abbiamo evitato la vendita della piscina. Ripartiamo da fare adesso in positivo queste cose. Per esempio noi diciamo che nell'area ex ospedale bisogna fare delle opere che aiutino le persone fragili, pensiamo a degli alloggi nelle situazioni di difficoltà sia per anziani sia anche per categorie giovani. E ancora Marostica per tutti punta i riflettori sul tema della sicurezza e della viabilità. Il rischio di incidenti per esempio nelle rotatorie nella zona tra Marostica, Pianezza e Colceresa è un rischio quotidiano. Quello è un incrocio che va messo in sicurezza. Il Comune purtroppo precedente ha distorto risorse e noi vogliamo che quell'opera venga realizzata nei tempi più brevi possibili.